Buongiorno, Pietro Lenna di Regione Lombardia, responsabile del settore moda e design di Regione Lombardia. Sono molto lieto oggi di essere qui a questa manifestazione Milano Unica di febbraio 2018, dove insieme a Milano Unica e Piattaforma Sistema Formativo Moda abbiamo organizzato questo stand dedicato ai giovani per avvicinare il mondo della formazione al mondo della produzione.